Oh, state ballando, quindi fate una festa. Ah no, non fare danni, papà. Questo video sarà incredibile. Come hai fatto a trovarmi? Chi è un querrintracciabile? Gliel'hai detto? Alla famiglia? Detto cosa? Che sei stata nella tua vita precedente. Cassie non c'è più. Quella vita è finita. È tanto che non venivo qui. Hai più sentito Cassie? Ho passato 17 anni della mia vita a cercarla. Bene, bene. La dolce Lorraine. Il mio detective del cuore. Qual è l'urgenza? Persona scomparsa. È tornato Stuart Green. È morto. Pare di no. Due uomini scompaiono esattamente 17 anni dopo Stuart Green. Coincidenza un cazzo. Ma tu devi starle alla larga. Conosci Megan? E tu? Lo sapevi che ha cambiato nome e si chiama Megan Pierce? Esattamente come terrai a sicuro te e la tua famiglia. Sono scomparsi a una settimana l'uno dall'altro. Tutti gli uomini scomparsi erano legati. Che significa? È un serial killer. Ma non voglio che commetti i miei stessi sbagli. Quali sbagli? C'è qualcosa di strano. E qualcosa sta per succedere. Non mi devi mai chiamare Cassie. Conosci gente a tricky caro. Conosci gente a ricchi di uma formazione roman baih. Pergiare torta, pergiare! Conosci gente a ricchi di un e bastonato 450% Econosciente.